Sono ragazze normali, di buona famiglia, sono delicate e gentili, lavorano a maglia, non hanno illusioni né grosse ambizioni, aspettano il giorno in cui lui verrà. Un certo numero di donne che mi sembrano tutte uguali, si procurano un marito per sentirsi più normali. Un certo numero di donne istruito, analfabete, illibato, emancipate, finiranno poi dal prete a dire sì. E tutte in fila vanno, vanno, e tutte in fila fanno, fanno, una splendida unione con l'approvazione di Dio. Che la famiglia sempre unita sarà, ha ha, ed è contenta tutta la società, se tu sarai una brava moglie, se da quel giorno imparerai a dire sì. E tu sarai come tua madre, come tua madre, hai già imparato a dire sì, 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 sì. Un certo numero di donne con un bel vestito bianco, si dirigono all'altare con l'amato padre al fianco. Un certo numero di donne che han vissuto nell'attesa, han concluso i loro sogni nel silenzio di una chiesa, dicendo sì. E tutte in fila vanno, vanno, e tutte in fila vanno, vanno, un accordo firmato davanti allo Stato e addio. Che la famiglia sempre unita sarà, ed è contenta tutta la società, oila, se tu sarai una brava moglie, se da quel giorno imparerai a dire sì. E tu sarai come tua madre, come tua madre, hai già imparato a dire sì, sì, sì. Un certo numero di donne che mi sembrano tutti uguali, si procurano a marito per sentirsi più normali. Un certo numero di donne, 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 donne! Grazie.